La dichiarazione di Ferra è già stata consegnata agli albani. La capacità di raccontare quella parte di guerra che arrivava sull'orlo dell'orrore ma raccontava anche la solidarietà e l'ingiustizia nelle cose quotidiane, diventava una missione. Il sergente è arrivato al momento buono ed è arrivato nel luogo con l'editore giusto, non solo dai naudi ma nei gettoni, proprio perché l'uomo qualunque raccontasse se stesso. Ha un sapore, è come un albero che è radicato. Lo scrittore è come un albero che deve avere una radicina, un profumo. Essere in ogni momento in armonia con se stessi e con il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.